Appena finito il Comitato di Sicurezza in Prefettura, la parola d'ordine è ancora stiamo sparsi. Evitiamo assembramenti, mascherina sempre, obbligatoriamente, scarichiamo l'app Immuni che è importantissima e laviamoci le mani. I casi a Pesaro ancora sono bassi, ma stanno aumentando e quindi dobbiamo aumentare il livello di guardia e ho chiesto al Prefetto di fare controlli serrati in tutti i luoghi sensibili dove si creano aggregazioni, davanti alle scuole superiori, all'ingresso e all'uscita, comprese le fermate del tram, nei luoghi del tempo libero del pomeriggio, penso alla pista del Pantrek e nei luoghi della Movida nel weekend, Baia Flaminia, Viale Trieste, Via Cavour in particolar modo. Non chiuderemo strade e vie perché non ce n'è la necessità, ma faremo controlli molto stringenti e faremo multe salate a tutti coloro che non rispettano le regole. Quindi massima intransigenza, massima responsabilità, avremo un autunno difficile e dobbiamo tutti collaborare.